Sono Favia Marinelli, presidente del corso di studio della laurea triennale in biotecnologia presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Perché iniziare adesso un percorso di studio nelle biotecnologie? Perché le biotecnologie offrono strumenti innovativi e anche affascinanti per migliorare la vita delle persone, per migliorare il benessere degli animali, l'agricoltura, per la salvaguardia dell'ambiente e per produrre anche energie rinnovabili. Il punto di forza del corso di studio di biotecnologie a Varese è la possibilità che noi diamo ai nostri studenti di stare tanto in laboratorio. Infatti il motto del nostro corso di studio è sapere ma anche saper fare. Questo è l'aspetto che viene oltretutto apprezzato dalle aziende del nostro territorio, la Lombardia del distretto biotec italiano e anche dalle aziende del vicino canton Ticino. Per questo motivo abbiamo un numero chiuso, programmato, di 140 studenti proprio per dare a tutti la possibilità di spendere buona parte del loro tempo nei laboratori didattici. Per questi motivi vi invito a scegliere questo corso di studio, un corso di studio che quindi offre nuove opportunità per il vostro futuro professionale. Scegli oggi il tuo domani. Sono Niccolò Callegari, sono uno studente del corso di laurea in biotecnologie dell'Università degli Studi dell'Issubria. Ho scelto biotecnologie perché è un corso incredibilmente innovativo che unisce sia lo studio ma anche l'attività pratica molto importante nei laboratori. Inoltre ho scelto questo corso proprio per il ridotto numero di studenti, per il numero chiuso, che porta ad un elevato rapporto con i docenti, riuscendo quindi ad acquisire maggiori nozioni per entrambe le parti. Lo studente acquisisce meglio, mentre invece il docente va a migliorare sempre quello che è il suo rapporto con lo studente e le metodologie di insegnamento. Nel mio percorso di studi universitario sono stato anche rappresentante in diverse commissioni proprio per tentare di aumentare sempre quella che è la qualità del nostro corso di laurea, in modo da migliorare quelle che sono le problematiche che vengono rilevate dagli studenti e per andare a colmare quello che può essere comunque il rapporto con i docenti, riuscendo ad ottenere sempre un miglioramento. Vi invito quindi a far parte di questa comunità che mette sempre al centro lo studente. Scegli oggi il tuo domani. Grazie. 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 Grazie.